ciao mattia andrea sono carico e sono carico ragazzi carico a mille allora vado in namibia sicuramente ci andrai ma non da pilota no ci andrai per raccontare il gs trofi 2024 amici di moto.it ciao a tutti eccola qua la grande novità 2023 2024 su moto.it racconteremo il gs trofi che cos'è il gs trofi mattina cosa stupenda dico io la dici tu lo dico io è un evento internazionale dove 23 team provenienti da tutti i paesi del mondo si sfidano in una gara che è una via di mezzo tra una a sei giorni di enduro e un giochi senza frontiere è una sfida che in realtà molto dura ma anche un'esperienza sicuramente indimenticabile passi poi è già di per sé un evento bellissimo da sempre gs trofi in più fatto in namibia deve essere qualcosa di epico e moto.it lo racconterà passo passo fino appunto alla namibia sarò là con i tre ragazzi selezionati ma adesso siamo nella fase proprio delle selezioni perché c'è un questionario la cosa più importante che dovete fare adesso è andare sulle pagine web di bmw motorrad italia e iscrivervi al questionario questionario fondamentale per partecipare alle selezioni corretto mattia corretto ma non basta compilare questionario con tutti i dati è anche necessario che facciate un breve video di un minuto 30 secondi che riesca a sintetizzare cosa significa la moto per voi e come interpretate la moto e il fuoristrada. dobbiamo conoscervi da questo video quindi manifestate la vostra creatività la vostra passione per il mondo dell'enduro e anche la vostra capacità di raccontarvi in un video breve bastano 30 secondi il questionario è sul sito andate subito perché poi ci saranno le selezioni in italia il 4 e 5 luglio ed è possibile iscriversi fino al 15 giugno 2023 quindi fatelo subito perché un'occasione d'oro per guidare la gs partecipare a selezioni bellissime e poi perché no se siete così in gamba così simpatici bravi nel comunicare la vostra passione arriverete in namibia e il 4 5 luglio cosa succede sempre in italia nord italia diamo qualche indicazione diciamo che i 50 migliori selezionati tramite il questionario e i video che riceveremo saranno i finalisti e in queste due giornate di questi 50 verranno diciamo scremati fino ad ottenere i tre vincitori definitivi che comporranno il team italia per il gs trophy 2024 ecco questo team italia una cosa molto bella ci tengo a dirvela sarà protagonista anche su moto.it perché parteciperemo con il team alle fasi anche propedeutiche alle alle prime uscite del team chiamiamolo team italia del gs trophy per conoscervi per mettervi alla prova con le moto e per farvi conoscere le vostre gs che userete uguali a quelle che useranno in namibia perché poi le moto saranno in namibia aspettare il team italia saranno delle moto dedicate no personalizzate e bellissime con la livrea del gs trophy di quest'anno che non si conosce ancora è tutta una sorpresa esatto non vediamo l'ora di vederla quindi giornate di selezioni molto importanti però prima cosa iscrivetevi sulla sulle pagine di bmw motorrad scaricate il questionario compilatelo e poi vi aspettiamo il 4 e 5 luglio i finalisti per queste selezioni bellissime che ci porteranno poi in africa in namibia quando nel 2024 mattia fine 2024 quindi c'è tutto un anno per conoscerci io vi aspetto perché poi sarò proprio con voi con voi tre fortunati sarò il quarto fortunato che verrà in namibia per raccontare proprio la vostra esperienza e perché no per raccontare cosa farà il team italia in questo gs trophy meraviglioso quindi ragazzi mi raccomando questionario video e speriamo di vederci di persona il 4 e il 5 di luglio per le selezioni finali ciao ciao